Ferser, Rummenigge, su Breitner, Paolo Rossi in difesa, contrattacco di Scirea, Conti, su Bentrarossi, Rossi, Scirea, Bergomi, Scirea, Tardelli, go, go, Tardelli, Rossi, Tardelli, uno splendido gol di Tardelli, esultiamo con Pertini, 2-0, Tardelli ha raddoppiato, uno splendido gol, al ventiquattresimo, raddoppio di Tardelli, ventiquattresimo del secondo tempo, 2-0, Germania, ed entra Müller ed esce Rummenigge entra Müller ed esce Rummenigge grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti